Le liste d'attesa sono un punto dolente della sanità italiana, ancora di più dopo il periodo Covid. Feder Anziani ha messo a disposizione, proprio di quanti hanno bisogno di risolvere problematiche del genere, Pronto Senior Salute, che è un punto d'ascolto e di supporto per gli over 65 in difficoltà con le liste d'attesa. Abbiamo qui la vicepresidente di Feder Anziani, che ci spiega proprio in che cosa consiste questo servizio. Erano già un problema in Italia, adesso bisogna dire la verità fino in fondo. Sono diventate un dramma a seguito del Covid, perché è chiaro che il Covid ha interrotto il normale flusso di attività e ci sono adesso centinaia di migliaia di arretrati. Abbiamo immaginato di fornire ai nostri anziani un numero di riferimento, è 0662 274404. Cos'è questo numero? È un servizio gratuito al quale ci si può rivolgere, fornire l'informazione che riguarda la prestazione richiesta e non effettuata. Faccio un esempio banale. Chiedo una visita cardiologica. Ogni prestazione ha una tempistica, quindi l'ASL è obbligata a rispettarla, oppure addirittura a dirottare su strutture private dove non fosse in grado di effettuarla entro X giorni. Noi verifichiamo la congruità della richiesta, cioè diciamo che studiamo la casistica e nei casi previsti ci rivolgiamo all'ASL, lo facciamo in maniera prima formale, poi facendo intervenire il nostro ufficio legale e vi confesso che stiamo ottenendo risultati assolutamente positivi. Le risposte ci sono. Noi speriamo che questo servizio nel tempo diventi inutile perché significa che finalmente le prestazioni sono diventate fluide come è giusto che sia.